Ciao a tutti, benvenuti in questo video e quindi qua sul mio canale e non è questo un video clickbait perché volevo veramente, voglio veramente farvi sapere e raccontarvi questo che mi è successo mentre stavo facendo il cappottino per Oscar allora, da premettere che non è la prima volta che io realizzo un cappottino per cani ne ho fatti per Pippo che era un cagnolino che avevo diciamo, parecchio tempo fa prima di Charlie ne ho fatti per Charlie avete visto quello che sta sul canale ma ne ha anche altri, sia a maglia che all'uncinetto per Charlie ne ho realizzato anche uno col pile, quindi con il cucito quindi, voglio dire non saranno eccezionali però un minimo di esperienza ecco direi di averla o almeno credevo di averla quello che non avevo fatto e che non avevo cioè, sì, l'avevo preso un attimo in considerazione però forse l'ho sottovalutato è che Oscar è un cucciolo e come tutti i cuccioli cresce, ok? quindi, io sì, ho preso le misure ad Oscar come normalmente si procede quindi devi fare una cosa per qualcuno che sia persona che sia un cagnolino, un gatto, eccetera prendi le misure però comunque è successo che o Oscar è andato incontro a una crescita sproporzionata ma cosa che poi non è vera perché mi sono consultata col veterinario mi ha detto che il suo accrescimento è del tutto normale oppure io ho sbagliato a procedere e questa seconda opzione è quella più probabile cioè quella che poi è successa in quanto io ho preso le misure Oscar poi ci lavoravo, è chiaro, un po' al giorno e in più non avendo un modello da copiare parliamoci chiaro non avendo un modello da copiare il golfino qua andava crescendo man mano quindi sera per sera diciamo che me la sono presa un po' comoda ecco come il mio solito però questa cosa sul cagnolino in crescita sul cucciolo in crescita non si può fare di prendersela comoda quindi ho cominciato qui e ho visto che già c'era qualcosa che non andava tre o quattro giorni dopo e quindi ho ricominciato con altre maglie ho fatto un altro pezzetto poi magari ho aspettato quei sei, sette giorni adesso non siamo arrivati a dieci giorni questo credo proprio di no e ho visto che questo cappottino sembrava veramente tanto tanto piccolo per Oscar allora cosa ho fatto? sono andata in un negozio e ho comprato un cappottino e ho visto che aveva diciamo intorno a 15 come misura però era veramente preciso proprio preciso allora cosa ho fatto? ho comprato 20 mi andava un po' larghino e ho continuato a fare questo non seguendo però quel modello che è del tutto differente continuando con quello che avevo in mente io quindi le trecce e sono poi diciamo entrata in un vortice che mi ha portato a lavorare all'ultimo in maniera forzennata perché vedevo questo cane crescere e il cappottino rimanere invece là dove l'avevo lasciato la sera prima nonostante io ci avessi lavorato ecco questo non è che io ve lo dico per scoraggiarvi cioè per dirvi oh fare questo cappottino ci vogliono 20 giorni l'ho fatto per dirvi che se avete un cucciolo considerate ecco che è un cucciolo e che crescerà considerate la vostra velocità considerate il fatto che ora lo copierete e quindi sarà tutto molto più semplice se invece dovete progettarlo voi ex novo ci metterete del tempo quindi dovete anche metterci in conto il fatto che magari al cucciolo non lo potrete mettere lo dovrete regalare magari a un'amica che ha un cagnolino piccolo o qualcosa perché sicuramente forse andrete incontro alle stesse cose cui sono andate incontro io ovvero l'ho ricominciato cinque volte ecco per arrivare a questa che è poi la misura natalizia definitiva quello che doveva essere il regalo di natale di oscar iniziato i primi di dicembre finito verso il 23 di dicembre e ricominciato appunto cinque volte perché quando arrivavo qua vedevo che era comunque troppo piccolo per lui e adesso gli va proprio preciso quindi lo porterà sienno 20 giorni forse un mese al massimo speriamo che lo porti ecco un mesetto quindi il freddo più intenso per il freddo più intenso anche se poi non è comunque gliel'ho messo una volta il giorno di natale c'è stato buonissimo lui forse perché sentiva che gliel'aveva fatto con tanto amore ok le campane possono partire e quindi è stato tranquillo gli è piaciuto tanto e lo vedevo proprio almeno oppure ero io particolarmente predisposta al fatto che questo cappottino fosse venuto bene perché dopo diciamo questa tribolazione iniziale le cose sono andate via tranquille perché ho deciso basta adesso lo faccio a chi va bene va bene se sarà Oscar perfetto se sarà qualche altro cagnolino va bene uguale basta poi lo rifarò magari più grande per Oscar ok ho smesso proprio di farmi questi problemi perché altrimenti non l'avrei proprio portato a termine dopo il racconto di queste vicissitudini vorrei presentarvelo un attimo questo cappottino che qua a me sembra fucsia sullo screen della fotocamera sembra fucsia in realtà è un rosso rosso natale ok però c'è la luce proprio qui e quindi in questa zona è brutto qui sullo screen però non lo so sul video come verrà io spero venga di un rosso bellissimo come realmente è un bel rosso natale è praticamente fatto così questa porzione sopra in questa porzione superiore ci sono le trecce ci sono gli scalfi delle maniche sotto invece è fatto come un golfino ecco così finisce qua e qui ci sono sempre gli scalfi delle maniche e la scollatura sta anche sul dietro ok poi che altro c'è? niente praticamente il collo che è un collo alto ripreso qui e qui dietro fatto a cannolè uno a uno così come i cannolè uno a uno stanno intorno alle zampette e qua su questa porzione posteriore qui non ho messo altro cannolè perché è chiaro c'era questo e quindi basta così ho unito questo che proveniva dalla porzione posteriore a fin qui ok allora semplicissimo sì per voi ripeto che qui ci sono tutte pagliuzze tutte cose che lui ha preso sotto l'albi natale non lo so perché appunto già l'ha portato allora facile sì nel senso ecco diamoci una regolata avete tutto c'è tutto perché io vi dirò tutto quanto come sempre quindi procederemo passo passo voi mi potrete fare delle domande e quindi poi posso rispondervi nei commenti ecco sempre che le domande siano poste in maniera educata comunque perché ultimamente ne ho avute un paio un pochino così strane e quindi mi sono stranita anche io un attimo però vabbè se ricominciamo tranquilli come al solito vabbè possiamo tranquillamente procedere come facciamo noi quindi io vi dirò ripeto tutto quanto tutto proprio tutto 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 come si fa il cappottino le conoscenze che bisogna avere sono maglia rasata è chiaro poi la treccia non c'è bisogno di saperla già fare perché ve la spiego io e quindi la potete imparare tranquillamente in questo video dovete saper usare però i ferri circolari circolari col magic loop perché qua andremo intorno così a cerchio per fare il cannolè così come intorno alle zampette mentre qui il cannolè lo facciamo con i ferri lineari quindi non è un problema e che altro nient'altro vabbè il tubolare a cerchio ma anche questo c'è sul canale ma comunque ve lo spiego io e poi potete terminare qui anche senza la maglia tubolare potete chiuderla come volete qua il tubolare normale insomma ci sono un po' di cosine particolari perché se non ci fossero state non sarebbe venuto così bello ok me lo dico per conto mio perché tanto voglio dire Oscar già me l'ha detto quindi voi chiaro me lo direte nei commenti e quindi mi rimane altro che dirmelo per conto mio ecco che carino e poi gli va anche bene nel senso che veramente sembra un maglioncino un maglioncino fatto a mano ecco quindi mi piace mi piace tanto e per questo anche che l'ho messo sul canale fosse venuto una cosa orrenda non l'avrei sicuramente messa qua sul canale questo cappottino è stato usato con i ferri numero 3 sia per quanto riguarda la lavorazione che questa qui insomma che che cannulè quindi tutto con i ferri 3 e questo invece che faremo adesso lo realizzeremo è chiaro con i ferri numero 4 perché io o lo metto a Oscar perché adesso non so come verrà e quanto verrà questo nuovo questo è 20 e quindi se voi volete prendere la lana che si lavora col 3 vi verrà 20 per un cagnolino che ha la misura 20 quindi 20 centimetri ricordate si prende dalla fine del collo all'inizio della coda è questa misura poi lasciamo stare perché non sono io la persona più adatta ecco alle misure visto quello che vi ho raccontato prima e quello che faremo insieme invece sarà lo stesso modello però fatto con un filato un pochino più spesso e un numero in più di ferri quindi il 4 vediamo a quel punto se riusciamo ad arrivare a 25 e quindi lo mettiamo a Charlie se è 25 27 perché lui porta diciamo questo altrimenti aspettiamo un attimo che Oscar cresca e lo metterò ad Oscar quindi stavolta avrò diciamo due cani a disposizione per poter mettere loro il cappottino e spero che almeno uno dei due che ad almeno uno dei due vada bene quindi 3 ferro circolare 3 ferri lineari ferri circolari 3 per il il coso per questo qua 20 più più questo non mi ricordo come si chiama comunque quell'attrezzino per fare le trecce ve lo faccio sapere nei video specifici scusate ma adesso non mi sovviene il nome di questo di questo cosa qua per cui non lo potrete neanche andare a comprare se non vi dico il nome però dalla merciaia dite quello lì per fare le trecce e ve lo sa sicuramente dare mentre se volete fare il cappottino che verrà più grande punto interrogativo prendete i ferri numero 4 ferri lineari ferri circolari numero 4 e questo qui anche chiaro numero 4 perché ci sono sia più sottili che un pochino più spessi ecco quanto materiale qui bastano due gomitoli quindi da 50 quindi un etto 100 grammi sono stati sufficienti per realizzare tutto il cappottino quello con i ferri numero 4 ecco adesso tolgo un attimo la fascetta perché per ovvi motivi qua togliamo tutto solo che l'hanno messa in una maniera diciamo abbastanza particolare per cui vabbè ok eccolo qua il filato numero 4 inutile a dirvi io anche per il cagnolino prendo la pura lana e questo non è un insulto al fatto che dice mette la pura lana al cagnolino come sapete io anche per loro per i miei West Thailand che hanno diciamo una cute molto particolare vanno soggetti a rossamenti allergie sia per il cibo che mangiano che per tanti motivi stress e cose vado a prendere quindi la lana e non corro rischi alcuni addirittura sono anche contrari a mettere questi vestitini ai cani dicendo che magari sono ridicoli io non lo so che hanno che non è vero che hanno freddo perché hanno il pelo anche il mio veterinario in qualche maniera dice che il cane non ha bisogno teoricamente cioè non ha bisogno di cappottino in quanto ha il pelo non ha la pelliccia mica un orso allora ha il pelo no? che lo praticamente protegge tutto però io non ho obiettato perché comunque la cosa non mi va insomma di stare a discutere a discutere però se io tengo il mio cagnolino dentro casa a 20-21 gradi tutto il giorno questo qua non è che è un cane come quelli che vanno a caccia oppure che ne so insomma che stanno fuori tutto il giorno e quindi si possono abituare alle temperature magari qua adesso fa meno 2 qua da me e quindi quei cani che sono abituati fuori è chiaro sono abituati anche a meno 2 i miei che stanno in casa e sono abituati a stare intorno a 20 se io li butto a meno 2 senza nulla secondo me hanno freddo poi se non è vero non sarà vero che hanno freddo però secondo me visto che Charlie quando mette questo qua sta più tranquillo insomma lo vedo anche Oscar che sta più tranquillo raggomitolato dorme ma poi se lo vuole mettere su si mette lì tranquillo a farsi vestire vabbè dice lì abituati ok però comunque non è che mi mordono ecco mentre sto mettendo loro il cappottino per cui non credo ecco che si sottomettano a tal punto che si facciano mettere una cosa che poi magari non vogliono che ne so io dall'esperienza che ho i cappottini che ho messo ai miei cani non hanno mai fatto loro del male ecco per cui magari sarò ridicola magari saranno ridicoli i miei cagnolini anche voi ditemi quello che ne pensate tranquillamente qua non c'è da insultare o cose perché non è appunto semplicemente un'opinione ecco che uno ha fatemi sapere se mettete i cappottini ai cani ok questa quattro io ne ho comprati quattro gomitoli quindi due etti forse sono un pochino troppi ne basteranno tre però non è sicuro quindi io per evitare problemi ho comprato direttamente quattro gomitoli quindi 200 grammi di materiali poi i ferri lineari numero 4 i ferri circolari numero 4 e quello per fare le trecce poi forbici ago da lana se vi piace iniziare questo progetto insieme a me io vi aspetto vi auguro buon lavoro fin da oggi e vi aspetto appunto per lavorare insieme i miei cagnolini con il pelo bianco i colori chiari stanno diciamo sì bene però non benissimo nel senso questo celeste si gli sta bene perché non è poi un colore così chiaro il bianco capite che non è che gli stia un granché il blu il marrone questi gli stanno benissimo ma qua colori scuri non li potevamo prendere perché perché non si vedono in telecamera le trecce e tutto quindi no e il rosso l'avevo già fatto per natale quindi ok ce l'ha o comunque ce l'avrà ce l'avrà per poco tempo però comunque ce l'avrà perché poi gli uscirà di misura e ne avrà uno celeste che gli sta carino perché l'anno scorso l'ho misurato uno di questo colore a charlie che poi non gli ho comprato più perché era brutto invece il modello come era fatto e quindi però il colore gli stava carino quindi il celeste sul bianco mi piace e quindi Grazie a tutti.